Sarà un'inchiesta della procura di Arezzo a fare luce sulla morte della 47enne Aretina entrata al pronto soccorso del San Donato con dolori addominali e deceduta 17 ore dopo. Il fascicolo aperto dal PM Laura Taddei dopo l'esposto della famiglia è contro ignoti. L'autopsia sul corpo della donna si svolgerà il 6 di febbraio. Al tempo stesso la ASL Toscana Sud-Est ha già aperto un'indagine interna. Innanzitutto mi lascio esprimere un momento di cordoglio, di vicinanza nei confronti della famiglia perché noi siamo, non voglio dire rattristati quanto loro, ma sicuramente sono episodi che ci colpiscono profondamente a tutti. Questo è un episodio per la quale abbiamo necessità di fare luce. Noi stessi avevamo richiesto il riscontro diagnostico perché è evidentemente una donna di 47 anni che decede sotto questa forma, crea, lascia degli interrogativi aperti. Adesso poi dopo il caso è in mano alla magistratura, nei confronti dei quali noi abbiamo la massima fiducia, noi non possiamo che adesso fare una, ripercorrere in maniera interna i passaggi con la documentazione sanitaria, cercare di capire cosa è che è andato storto. Ci sono stati già degli atti formali da parte della procura? Sì, ieri sera ci è stato notificato il sequestro della cartella clinica e noi abbiamo ovviamente collaborato dando tutte le informazioni che potevamo dare e adesso so che il lunedì pomeriggio dovrebbero fare l'esame autoptico. Ma nei confronti della cittadinanza si può dire che noi stiamo cercando di dare risposte sempre di qualità e questo siamo dei professionisti, come tutti i professionisti siamo soggetti anche a sbagliare per cui in questo senso ci prestiamo volentieri anche alle critiche che ci possono servire a migliorare. Io vorrei rassicurare la cittadinanza che il nostro ospedale è un ottimo ospedale di professionisti, di strutture qualificate e tecnologia avanzata e quindi è un ospedale a cui poter fare tranquillamente riferimento.